Un doppio attacco suicida in Niger ha fatto almeno quattro feriti ma nessuna vittima. Il primo è avvenuto ad Arlit e ha colpito un sito del gruppo francese Areva, leader dell'energia nucleare. Il secondo ad Agadez ha preso di mira un campo militare. Si tratta del primo attentato in Niger dopo l'offensiva francese in Mali contro i ribelli islamisti che si sono rifugiati nel nord del paese.